Lo scorso 23 giugno l'INAP, l'Istituto Nazionale Attività per le Politiche Pubbliche, ha adesso pubblico un report circa la ricerca di lavoro in Italia, quelli che sono i canali formali e informali maggiormente utilizzati per trovare impiego. E tra i canali cosiddetti formali ci sono i centri per l'impiego, di cui si è tanto parlato anche in quest'ultimo periodo nei vari torsion politici eccetera eccetera. Oggi voglio parlarvi dei centri per l'impiego, di come funzionano i centri per l'impiego, quali sono i servizi che rendono, con qualcuno che i centri per l'impiego li conosce molto molto bene. Quindi io saluto e ringrazio per aver accettato il mio invito a Leonardo Evangelista. Ciao Leonardo, è veramente un piacere averti qui con me sul canale. Allora Leonardo, io non dico nulla, ok? Nel senso che Leonardo Evangelista è per noi consulenti di carriera e per chi si occupa di orientamento professionale un po' il Montemagno della comunicazione. Detto questa presentazione è doverosa, ok? Detto questo, ti lascio qualche minuto per presentarti, quindi raccontarci chi sei, cosa fai. Va bene, innanzitutto Silvia ti ringrazio molto per il tuo invito e mi voglio complimentare anche con te per il tuo canale. Grazie. Grazie a tutti questi visitatori, tutte queste visite, penso che fai un lavoro meritevole, meritorio per le persone che cercano lavoro. Grazie al tuo canale, chi cerca lavoro può avere tantissime informazioni e migliorare in maniera sostanziale la sua ricerca di lavoro. Dunque, e fai tutto questo, il tuo canale è aperto a tutti, dunque sei incommiabile in questo tuo sforzo, in questo compito che ti sei data, ecco. E dunque sono contento, molto contento che hai deciso di intervistarmi perché in questo modo anche io posso dare un aiuto alle persone che cercano lavoro. Io sono uno psicologo del lavoro e da molti anni frequento lavoro nell'ambito della ricerca di lavoro. Io ho lavorato circa dieci anni nei centri per l'impiego della Toscana e poi adesso mi occupo soprattutto di fare formazione alle persone che lavorano nei servizi per l'impiego, sia nei servizi per l'impiego pubblici come i centri per l'impiego, sia nelle agenzie per il lavoro come, cito alcune agenzie per il lavoro, RANSTAT, DECO, ATTEMPO, eccetera, ecco, questi operatori. E poi anche operatori che svolgono un'attività di orientamento all'interno di agenzie formative. Dentro anche le agenzie, alcune agenzie formative sono accreditate per l'orientamento e dunque erogano servizi di orientamento. Ok, wow, ottima presentazione. Leonardo, cominciamo subito a parlare dei centri per l'impiego. Non so se i ragazzi, chi segue il canale li conosce, adesso cerchiamo un attimino di dare qualche informazione in più, perché noi in Italia abbiamo l'abitudine di dare risalto mediatico a quello che funziona male, o quello che dicono che funziona male. Il mio canale è conosciuto per essere, diciamo, questo è un canale democratico, nel senso che qui si dà la parola a tutti. Settimana scorsa con me c'era un candidato, avevo fatto una live, parlando di lui, adesso io, oh, vi avevo dato voce al candidato, oh, dici sei tu come professionista delle risorse umane, quindi almeno più vince la democrazia. Quindi, comunque voglia parlare, glielo dice, mi scrive, gli diamo il microfono e parla. Quindi, parliamo dei centri per l'impiego, visto che tu formi gli operatori, quindi sicuramente li conosci molto bene questi centri per l'impiego. Innanzitutto, che cosa sono i centri per l'impiego, quali servizi erogano per il cittadino in cerca di lavoro? Ok, allora, i centri per l'impiego sono la struttura pubblica che si occupa dell'assistenza a persone in cerca di lavoro. Ci sono centri per l'impiego in quasi tutte le città che hanno più di 50.000 abitanti, dunque sono diffusi in tutto il territorio nazionale, e erogano fondamentalmente due tipi di servizi. Un servizio è quello di raccolta di offerte di lavoro da parte di imprenditori e anche raccolta di curricula da parte di persone che sono in cerca di lavoro. Dunque, uno dei servizi dei centri per l'impiego è incontro, domande e offerte. L'altro grande servizio che viene erogato dai centri per l'impiego è il servizio di orientamento. Orientamento vuol dire informazione e consulenza a persone che sono in cerca di lavoro, perché sappiamo che la ricerca di lavoro richiede tutta una serie di accorgimenti. Per esempio, la gran parte delle offerte di lavoro, la quasi totalità, chiede al candidato di inviare un curriculum vitae. Questo curriculum vitae va fatto secondo certe regole. Dunque c'è bisogno di qualcuno che spiega alla persona come fare questo CV. All'interno del centro per l'impiego ci sono delle persone, dei consulenti, che fanno una consulenza su come fare il curriculum vitae. Oppure la ricerca di lavoro, sappiamo, va programmata, vanno trovate, va mirata. Dunque vanno identificate delle imprese che possono avere l'interesse per determinati profili. Ecco, trovare queste imprese non è banale. Alcune persone ci riescono da sole perché hanno già esperienza, perché qualcuno gliela ha spiegato, perché altre persone hanno bisogno di essere, di avere un aiuto, hanno bisogno di una consulenza. Ecco, all'interno del centro per l'impiego ci sono delle persone, dei consulenti che aiutano le persone a impostare, a portare avanti in maniera efficace la loro ricerca di lavoro. Dunque direi fondamentalmente questi due servizi. Incontro, domande, aiuto all'incontro, domande e offerta e consulenza persone in cerca di lavoro. Questa consulenza può essere anche, per esempio, sulla ricerca di una professione adatta alla persona, perché non tutti hanno le idee chiare su quello che vogliono fare nella vita. Per esempio, un neolaureato può non avere un'idea chiara di quello che può fare con la sua laurea. Oppure una persona che magari ha già una buona esperienza lavorativa a un certo punto può essere stanca di fare quel lavoro che ha fatto finora. Oppure può avere purtroppo improvvisamente un problema di salute che gli impedisce di continuare a fare quel lavoro e non ha un'idea a questo punto, dice, ma cosa posso fare? E nei centri per l'impiego si può avere un aiuto anche per definire una professione obiettivo diversa da quella che uno ha fatto fino a questo momento. Ecco, anche questo è un servizio, rientra nell'orientamento. Secondo le tue esperienze, sono tantissimi anni, ma è che lavori anche come coorientatore. Quali sono le difficoltà o le motivazioni principali per cui i candidati che si sono rivolgono a te, che si rivolgono a te, non riescono a trovare lavoro? Se c'è una casistica, una top five, top ten è troppo. Una top five, le motivazioni per cui il lavoratore, la persona non riesce a trovare un primo impiego o un nuovo impiego? Beh, allora, secondo me ci sono due problemi principali. Il primo problema è che la persona ha una preparazione che non è richiesta dalle imprese del suo territorio, purtroppo. noi leggiamo, per esempio, che c'è una grande richiesta di figure tecniche. Dunque persone che ne sanno di elettricità, che ne sanno di idraulica, che ne sanno di informatica, oppure che sono disponibili a fare, a svolgere lavori manuali, ma lavori manuali comunque un po' qualificati. Oppure leggiamo... Ecco, purtroppo in Italia la scuola non forma abbastanza figure di questo tipo. E questo è un problema, no? Si parla di mismatch, cioè di mancato incontro fra quello che le persone offrono e quello che le aziende cercano. Ecco, un altro problema può essere, invece, che c'è un'offerta di lavoro dequalificata o poco qualificata. Pensiamo a molti lavori nella ristorazione, per esempio, e molte persone non vogliono fare questi lavori. Perché? Perché sono lavori pagati poco, perché sono lavori scomodi, perché sono lavori... Dunque, molte persone preferiscono rimanere a casa, non lavorare, rimanere disoccupate, magari lamentarsi perché sono disoccupate, però rifiutano offerte di lavoro di questo tipo. Magari anche ha ragione, ecco, perché leggiamo sui giornali anche di casi persone, non so, che concordano un certo stipendio e poi arrivati al dunque e vengono pagati la metà, no? Persone che vengono pagate per fare quattro ore e poi sono costrette a farne sei o sette. Persone che hanno turni di lavoro lunghissimi o che hanno condizioni di lavoro molto disagiate, no? Se il lavoro è di cattiva qualità, una parte delle persone che può permetterselo, magari se lo possono permettere semplicemente perché c'è una pensione in casa, no? C'è un nonno, un genitore che ha comunque una fonte di reddito, preferiscono non lavorare e aspettare tempi migliori, ecco. Dunque, io direi fondamentalmente profili che non sono coerenti con quello che chiede il mercato oppure rifiuto di svolgere dei lavori che sono pagati poco o in condizioni molto disagiate. Ecco, ovviamente noi qui facciamo un discorso generale riferito a tutta l'Italia, no? Poi l'Italia, sappiamo, è fatta di tanti mercati del lavoro diversi, no? Il mercato del lavoro a Treviso è estremamente diverso dal mercato del lavoro a Caltanissetta, no? Perché le economie a livello locale sono diverse, i settori economici sono diversi, le dinamiche economiche sono diverse. Ecco, stiamo un po' parlando in generale, ecco. Però parlando in generale, secondo me possiamo dire che i problemi sono questi due. Ok, facciamo una rapidissima simulazione. Quindi io mi fingo candidata in cerca di lavoro. Leonardo è il consulente che mi accoglie a centro per l'impiego, perché magari molte persone non sono mai andate a un centro per l'impiego, quindi proprio da punto di vista operativo non conoscono proprio i passaggi, cioè non sanno proprio cosa si fa all'interno di un centro per l'impiego. Quindi virtualmente li portiamo adesso dentro al centro per l'impiego. Io sono la candidata e tu sei l'operatore che mi accoglie. Quali sono i passaggi, gli step? Come funziona l'accoglienza? Come funziona tutto all'interno di un centro per l'impiego? Ok, allora, la prima cosa che devi fare è la dichiarazione di medici. E per essere iscritti al centro per l'impiego, parliamo di nuovo in generale, è necessario essere disponibili a lavorare, altrimenti non ha senso. Lo scopo del centro per l'impiego primario è aiutare le persone a trovare un lavoro. Dunque i servizi del centro per l'impiego sono rivolti primariamente a persone in cerca di lavoro. Questa disponibilità a trovare un lavoro va dichiarata. Dunque c'è una dichiarazione che si chiama dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Questa dichiarazione può essere fatta anche online, sul sito di Ampal, oppure può essere fatta da un patronato. Va bene? Però diciamo, questo è il primo step. Dopodiché c'è un colloquio vero e proprio. Nel senso, io a questo punto ti chiederò quali sono le tue esperienze pregresse di lavoro e di studio e poi ti chiederò quali sono le tue preferenze lavorative, che tipo di lavoro stai cercando, mansioni che stai ricercando, condizioni di lavoro a cui sei interessata, distanza a cui sei disponibile a lavorare, orari di lavoro, per esempio, perché ho bisogno di avere un profilo delle tue caratteristiche, sia di quello che sai fare, sia di quello di cui stai cercando, per il nostro database. Perché abbiamo un database di tutti i candidati dove sono indicate le loro caratteristiche e poi quello che stanno cercando. Ecco, e poi sulla base di quello che tu mi dici, del lavoro che stai cercando, possiamo fare, facciamo, un piano d'azione. Cioè, se tu stai cercando lavoro e stai cercando un lavoro di un certo tipo, a questo punto io parliamo insieme, cioè ti faccio una consulenza sulle cose che devi fare per arrivare a svolgere questo lavoro. Perciò questo piano d'azione, che poi si chiama patto di servizio personalizzato, potrà prevedere, per esempio, di rivedere i tuoi strumenti di lavoro, dunque fare insieme il CV, rivedere il tuo profilo LinkedIn, se ce l'hai e stai cercando un lavoro per cui il profilo LinkedIn può essere utile. Preparare un messaggio di accompagnamento quando rispondi alle offerte di lavoro. Cioè, impostiamo, possiamo impostare la tua ricerca di lavoro. Oppure, possiamo anche aggiungere a questo magari la ricerca di opportunità formative per migliorare ulteriormente la tua professionalità e renderti più competitiva sul mercato del lavoro, rendere il tuo profilo più interessante. Va bene? Ecco, questa è una cosa che va appunto personalizzata, è una consulenza. E dunque tu uscirai dal colloquio con me con questo piano d'azione che dice le azioni che noi abbiamo concordato, che sono utili per trovare il tuo lavoro. E poi avrai i miei riferimenti o i miei personali oppure dell'ufficio in cui lavoro e normalmente si concorda anche che tu periodicamente mi dai delle informazioni su come sta andando la tua ricerca di lavoro. Qui mi sembra di capire, caso lo dico a chi ci sta ascoltando, che non è una consulenza one shot, cioè non ci vediamo solo una volta, ma è un vero e proprio percorso di accompagnamento al lavoro. Quindi magari ci sono più appuntamenti, più sedute con il consulente. Se non posso esserci più sedute, ovviamente bisogna che tu desideri poi avere di nuovo dei contatti con me. Cioè se ci mettiamo d'accordo tu ti metti a fare una ricerca di lavoro e ritieni poi di aver bisogno ancora del mio aiuto, mi vuoi aggiornare su come sta andando, hai trovato un'offerta di lavoro per esempio che non riesci a interpretare, hai piacere che la legga anch'io e che ti dica che cosa ne pensa, perché magari pensi che possa essere una fregatura. Cioè quando ritieni di aver bisogno di me, puoi mandare un'email e io ti rispondo a quella che è la tua domanda. Ecco, poi magari dopo tre mesi ci possiamo vedere ancora, fare un altro colloquio, fare un approfondimento su come sta andando la tua ricerca di lavoro e via discorrendo. Ecco, una cosa importante da dire è che questi servizi sono gratuiti, perché essendo un servizio pubblico i servizi per le persone sono resi a titolo gratuiti. Bravissimo, questo è importantissimo da dirlo. E a proposito di servizi pubblici, non so, il centro per l'impiego per quanto riguarda i servizi di orientamento di cui appunto mi stavi parlando, collabora poi con altri enti sul territorio, ci sono altri enti sul territorio che comunque erogano i medesimi servizi, a quale si può rivolgere una persona in cerca di lavoro? Allora, i centri per l'impiego sono gestiti a livello regionale e dunque ogni regione ha una propria normativa e ha delle proprie modalità di funzionamento. In alcune regioni i servizi di orientamento sono erogati anche da altri soggetti privati che sono accreditati per i servizi al lavoro. Per esempio, in Lombardia, le attività di orientamento vengono erogate anche da alcune, io credo tutte, ma insomma, dalle agenzie per il lavoro, Ransdata, DECO e via discorrendo, oppure anche da agenzie formative che sono ugualmente accreditate per i servizi al lavoro. Anche in questo caso i servizi sono gratuiti perché sono finanziati direttamente dalla regione con dei contributi che vanno a questi soggetti. Ecco, dunque, per esempio in Lombardia è possibile rivolgersi o al centro, se c'è bisogno di orientamento, o al centro per l'impiego oppure a una di queste strutture accreditate. Ti voglio fare una domanda da persona che vive, ho vissuto tanti anni all'interno dei centri per l'impiego perché, come ci dicevo all'inizio, questo canale è democratico ed è fondamentale avere anche lo sguardo di chi lavora dentro a queste strutture perché diciamo che funziona meglio dai ceneri per l'impiego veramente se ne sente di ogni in tv e noi, ripeto, abbiamo noi italiani sempre questa cattiva abitudine di dare sfogo mediatico alle cose che non funzionano. Io dico sempre se ce n'è soltanto uno che funziona bene in matematica uno fa l'eccezione quindi parliamo neanche bene di questi ceneri per l'impiego. Ma tu che fomi le persone che ci lavorano e tu stesso hai avuto tanti anni di esperienza all'interno di un centro per l'impiego, questa è la criticità di cui tanto si parla. Ecco, ci dai tu un tuo sguardo interno da questo punto di vista? Allora, nella mia esperienza per quelle che sono le mie conoscenze l'operatività dei centri per l'impiego in Italia è a macchia di leopardo. Dunque abbiamo alcune regioni o alcune sedi che funzionano molto bene funzionano molto bene nel senso che erogano per esempio dei servizi di orientamento di buona qualità. Gli operatori sono ben formati sono persone molto capaci e hanno tempo da dedicare a ogni persona che chiede questo servizio. Dunque ci sono centri che lavorano in questo modo. Ci sono però anche centri dove i servizi erogati non sono di questo tipo dove la qualità dei servizi erogati è più bassa. Perché? Perché per esempio gli operatori non sono opportunamente formati oppure sono formati ma non hanno tempo. Perché noi sappiamo che ci sono zone d'Italia dove c'è una disoccupazione molto elevata. Tutte queste persone sono ugualmente iscritte al centro per l'impiego. Se il personale è insufficiente e ammettiamo il tempo che ogni operatore ha per ogni persona è un tempo di 30 minuti ogni 6 mesi in 30 minuti ogni 6 mesi è impossibile fare un'attività di orientamento di qualità. Dunque in questi centri la qualità del servizio di orientamento sarà una qualità bassa sarà solo un'informazione orientativa non sarà una consulenza non ci sarà una presa in carico. Sicuramente dove c'è il personale ben formato c'è passato Leonardo a fare formazione. No, grazie. Sono ottimi, grazie. C'è la mano di Leonardo dietro. La formazione ovviamente fa la differenza perché anche fare orientamento non è una cosa da tutti. Fare orientamento richiede di sviluppare delle di usare delle tecniche particolari di colloquio poi richiede delle conoscenze richiede c'è un bagaglio di conoscenze che l'operatore deve avere e poi ci vuole tempo noi veniamo da anni in cui di blocco delle assunzioni nel pubblico e questo blocco delle assunzioni ha portato a una riduzione del personale anche esagerata riguardo alle esigenze degli utenti. Ora per fortuna questa situazione negli ultimi due o tre anni sta cambiando tre anni fa il governo ha concordato con le regioni per esempio un piano di assunzione di più di 10.000 nuovi operatori dunque questa situazione è migliorata o sta migliorando molte regioni hanno già fatto centinaia di assunzioni di nuovi operatori e dunque ripeto la situazione sta migliorando però ci sono queste due variabili il tempo che ogni operatore ha a disposizione per ogni persona e poi le sue capacità ecco e poi c'è sempre questo mito ma questa è una cosa che si tramanda da secoli non da anni centro per l'impiego uguale mi deve trovare lavoro perché viene finanziato dai soldi pubblici è un po' un mito cioè sfatiamo anche questo mito perché non è cioè non è scritto da nessuna parte 40 anni fa il centro per l'impiego si chiamava ufficio di collocamento perché effettivamente collocava per lo meno per le mansioni più basse no dal dopoguerra fino a a fine degli anni 80 per evitare discriminazioni nelle assunzioni sul lavoro le figure poco qualificate venivano assunte con una procedura numerica cioè il datore del lavoro scriveva al centro per l'impiego dicendo mi servono tre operai e il centro per l'impiego inviava i tre operai che aveva in una c'era una graduatoria apposta costruita costruita in base a vari parametri fra cui l'anzianità di iscrizione e mandava i primi tre operai della lista dunque effettivamente questi uffici collocavano trovavano lavoro ma questo sistema ovviamente non piaceva all'impresa perché è comprensibile cioè un datore di lavoro vuole scegliere i dipendenti perché perché un dipendente di un certo tipo o di un altro fa una grossa differenza sul risultato del lavoro no cioè assumere qualcuno è quasi come sposarsi cioè poi ci si sta a contatto tutti i giorni dunque bisogna che ci sia un gradimento reciproco anche da parte del dipendente bene ecco e dunque questo sistema è stato poi è cessato non ha funzionato più così e è cambiato anche il nome centro per l'impiego invece che ufficio di collocamento dunque il centro per l'impiego oggi non colloca più eccetto che per le mansioni basse nella pubblica amministrazione per esempio la persona che deve fare pulizie negli uffici pubblici lì c'è ancora un sistema di questo tipo ma nel privato per le assunzioni del privato le assunzioni sono libere sono i datori di lavoro che scegliono le persone che vogliono assumere ecco ovviamente la speranza di ogni disoccupato è che va da qualche parte dice quello che cerca e ottiene quello che desidera va bene però questo è Babbo Natale no questo è l'atteggiamento a fine anno scrivo la mia letterina Babbo Natale dico caro Babbo Natale portami questo no ma questo funziona così nelle favole no oppure funziona così se la persona ha una professionalità forte cioè se io sono un informatico se io sono un autista di camion se io sono un elettricista se io sono un idraulico e vado al centro per l'impiego lì mi danno se sono anche un cameriere se sono un aiuto cucina allora e vado al centro per l'impiego il centro per l'impiego mi trova lavoro cioè il centro per l'impiego ha delle offerte di lavoro aperte molto probabilmente e mi dice sì guardi lei cerca lavoro come cameriere vada a questo ristorante perché stanno cercando va bene ecco però questo accade solo per i lavori che sono maggiormente ricercati per tutti gli altri lavori non funziona così perché il centro per l'impiego non ha offerte a sufficienza per tutte le persone che si rivolgono al centro per l'impiego in particolare i centri per l'impiego non hanno offerte a sufficienza per le persone che non sanno fare niente o quasi niente o che cercano cose molto specifiche voglio un lavoro di addetta alla reception a massimo 15 minuti a piedi da casa e qui rientriamo del babbo natale a volte può accadere che uno lo trova però se uno ha delle prerogative così particolari è difficile che il centro per l'impiego abbia delle offerte di questo tipo no in più il centro per l'impiego raccoglie una parte delle offerte di lavoro cioè i datori di lavoro che cercano dipendenti possono usare tanti canali il centro per l'impiego è solo uno dei canali dunque il datore di lavoro che cerca dipendenti può pubblicare un'offerta di lavoro da solo su un giornale come Seconda Mano per esempio oppure può rivolgersi a un'agenzia per il lavoro oppure può fare passaparola noi abbiamo queste statistiche anche questa che citavi tu di Ampal per esempio che ci dice che i canali informali cioè il passaparola prioritariamente pesano per circa il 50% delle assunzioni una percentuale altissima ecco una percentuale altissima dunque se io cerco lavoro faccio bene ad andare a rivolgermi al centro per l'impiego vedere il sito seguire il sito del centro per l'impiego e vedere anche le offerte di lavoro che loro ogni settimana raccolgono però devo usare anche altri canali perché se no mi taglio fuori da tutta una parte di datori di lavoro che usano altri canali dunque devo fare passaparola devo rivolgermi alle agenzie per il lavoro devo guardare i motori di ricerca tipo Indeed per esempio che riportano e poi mi segnalano le offerte di lavoro disponibili devo usare LinkedIn anche LinkedIn ha delle offerte di lavoro no? rende possibile mettere delle offerte di lavoro dunque diciamo il centro per l'impiego per chi cerca lavoro e cerca offerte di lavoro è uno dei canali possibili per trovare da usare per trovare le offerte di lavoro però non può essere l'unico canale no? così come LinkedIn non può essere l'unico canale o le APL le agenzie per il lavoro non possono essere l'unico canale perché se uso un canale solo i tempi della mia ricerca parlando in generale si allungano devo usare più canali usando più canali ho più probabilità di trovare i dipendenti e poi devo avere anche qualcosa da offrire se io sono un demo diplomato e magari ho fatto anche una scuola che non è tecnica ho fatto un liceo che cosa ho da offrire a un datore di lavoro? molto poco no? dunque è ovvio che farò fatica a trovare un lavoro anche se vado al centro per l'impiego anche se vado alle agenzie per il lavoro è necessario che imparo qualche cosa oppure che accetto di fare quei lavori che sono dei qualificati grazie Leonardo sono suggerimenti sì mi pare parlavo scusami Sì parlavo con un'operatrice del centro per l'impiego di Aosta quest'estate e loro mi dicevano che avevano un centinaio di offerte di lavoro nel turismo e non avevano candidati capito? però bisognava andare a Osta e essere disponibili insomma nelle montagne intorno e essere disponibili per fare i lavori di cucina ecco se uno non si vuole spostare o non è interessato a lavori di questo tipo questi lavori non li prende rimane disoccupato se non sa fare nient'altro ti ringrazio Leonardo anche perché nella parte finale hai dato un sacco di suggerimenti per cercare lavoro come quello appunto di utilizzare più canali e poi adesso lasceremo tutti i tuoi riferimenti quindi chiunque voglia farsi una chiacchierata con Leonardo tra l'altro mi ha formato come consiglio posso dirlo che è terminata l'intervista mi ha formato a me come consulente di carriera quindi è mio maestro il mio mentore no no ma io Silvia rimando tutti a te rimando io non faccio più ora consulente di carriera individuale non la faccio più adesso formo solo faccio solo formazione di operatori appunto e li formi bene sei ovviamente molto bravo formarmi grazie ci formi bene li formo bene ecco però rimando poi tutte le persone interessate ad avere una consulenza personalizzata efficace nella loro ricerca di lavoro a rivolgersi a te grazie il canale quindi sono sicura che i tuoi consigli saranno più che utili a tutti chissà magari ci rivediamo con un'altra intervista chi può dirlo intanto ti ringrazio davvero per il tempo che ci hai dedicato ci vediamo presto su LinkedIn perché tu sei super attivo su LinkedIn quindi ci vediamo su LinkedIn grazie Leonardo grazie ancora grazie a te Silvia e anche a tutti le persone che ti seguono e che vedranno questo video grazie ciao ciao a tutti ciao ciao